Mi sente di questi minuti la notizia che Nicola Legrottaglia non è più l'allenatore della Pescara? Sì, mi dispiace perché quando si prende una decisione di questo tipo è sempre una sconfitta e quindi dispiace. Però era necessario perché dobbiamo avere delle certezze e quelle certezze ci devono far andare in campo con la consapevolezza che i giocatori devono avere per cercare di portare a casa i punti necessari per la salvezza. La sconfitta di Cremona, possiamo dire che è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso? Ma no, no perché era un pensiero che già avevo ed era un pensiero che avevo maturato insieme ai collaboratori a Bocchetti e a Repetto perché vedevamo che qualcosa non andava, non andava e quindi non è un risultato che ti fa cambiare, ti fa cambiare un insieme di cose e quindi abbiamo deciso di interrompere il rapporto. Sarà sottile il nuovo allenatore della Pescara? Vedremo, entro oggi prenderemo la decisione. Quindi venerdì ci sarà il nuovo tecnico in panchina in una gara delicatissima come quella con il Perugia? Sì, sarà il nuovo tecnico perché io non lo posso fare quindi è evidente che ci sarà un nuovo tecnico. Ma tanto le gare da qui alla fine sono tutte delicate, i risultati in Serie B sono sempre risultati a sorpresa, c'è magari il Livorno che batte la Juve Stabia in casa e quindi così come il Pisa che va a vincere a Spezia, nessuno magari avrebbe dato questo risultato. Però il Pescara sa che deve conquistare 6-7 punti e ce la deve mettere tutta da qui alla fine per fare questi 6-7 punti. Se partite di campionato con un calendario presidente non semplicissimo? Tutti i calendari e tutte le squadre hanno calendari semplicissimi, ho visto stamattina sul quotidiano il centro, la tabella delle partite che restano per le squadre che potenzialmente devono mantenere la categoria. Credo che non ci sia un calendario più morbido di un altro, quindi le squadre sono tutte quante squadre attrezzate in Serie B, quindi bisogna sempre fare attenzione con tutti e contro tutti. Però per fortuna poi anche gli altri devono incontrare le stesse squadre, ci sono degli scontri diretti, quindi credo che con 6-7 punti la quota salvezza ci sia. Presidente, l'Egrottaglia era subentrato il 20 gennaio scorso a Luciano Zauri e in queste ore si parla anche di Zauri, potrebbe esserci un clamoroso ritorno? Potrebbe esserci anche il clamoroso ritorno, però io credo che in questo momento dobbiamo guardare una serie di cose, stiamo valutando una serie di cose, nel pomeriggio prenderemo una decisione. L'ultima cosa, Sottil è legato ancora al Catania, avete sentito la società siciliana? No, noi non dobbiamo sentire nessuno, non è che siamo noi che dobbiamo sentire, eventualmente sarà lui che dovrà sistemare le cose con il Catania, quindi so che è legato ancora al Catania, ma se decideremo per Sottil probabilmente sarà lui a risolvere il problema con il Catania. Hai parlato con la squadra? Oggi pomeriggio, oggi pomeriggio farò l'occasione del tampone, farò due chiacchiere anche con la squadra perché è giusto che anche la squadra si prenda le proprie responsabilità perché qui quando le cose vanno bene il merito è di tutti, quando le cose vanno male il demerito è di tutti anche in questo caso. Tutti siamo sotto processo, quindi anche la squadra dovrà capire dove sta sbagliando anche la squadra, qualcosa sicuramente sbaglia. Io credo che, ripeto, da quando abbiamo riniziato il campionato, credo che non abbiamo fatto partite dove abbiamo meritato di perdere in maniera anzi. Se avessimo parigiato le due partite di Pisa e Cremona nessuno avrebbe potuto dire nulla, però se questo non succede vuol dire che qualcosa dobbiamo migliorare, vuol dire un po' di cattiveria in più, un po' di furbizia in più, un po' di cuore oltre l'ostacolo dobbiamo buttarlo.